Non c'è salute senza salute mentale. Uno slogan che ogni 10 ottobre, giornata mondiale della salute mentale, viene ripetuto come un mantra, ma si fa abbastanza affinché dagli slogan si passi ai fatti. Dai dati del Ministero della Salute, l'ultimo rapporto sulla salute mentale in Italia è stato pubblicato nel 2020, non contiene quindi tutte le conseguenze di due anni di pandemia. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dati pubblicati a giugno 2022, una persona su otto ha un problema di salute mentale. Di questi, il 71% non ha ricevuto servizi di assistenza. Tra i disturbi più diffusi, l'ansia con il 31% e la depressione con il 28%, che in seguito alla pandemia hanno registrato un aumento rispettivamente del 26% e del 28%. Sempre nel 2019, il 14% dei giovani in tutto il mondo, tra i 10 e i 19 anni, è stato affetto da disturbi mentali. Il suicidio è la principale causa di morte tra i giovani e più della metà degli eventi avviene prima dei 50 anni. Come risponde il servizio pubblico a tutto questo? Il rapporto tra operatori sanitari della salute mentale e cittadini è di 1 a 100 mila nei paesi a basso reddito, 1 a 60 invece il rapporto nei paesi ad alto reddito. Ma se caliamo tutto questo in Italia, in Toscana e ad Arezzo, fonti ASL ci riferiscono di un'attesa di almeno 15-20 giorni per una visita specialistica dopo la richiesta del medico curante. Per le urgenze c'è il pronto soccorso e di conseguenza la valutazione da parte dello specialista. Ma c'è un problema di personale ad Arezzo? Lo abbiamo chiesto al dottor Michele Travi, direttore dell'Unità Operativa Complessa di Psichiatria per la provincia di Arezzo. Mancano i medici, afferma Travi, soprattutto nelle vallate. Siamo deficitari di almeno 4 professionisti per la città di Arezzo, sostanzialmente siamo ben coperti, mentre nelle zone più periferiche no. Abbiamo anche indetto ben 3 concorsi e sono andati tutti deserti. Di certo rileviamo un aumento della domanda, continua Travi di aiuto da parte della popolazione dopo la pandemia. Quindi, aggiungiamo noi, se le risorse umane, medici ed infermieri erano insufficienti prima del 2020, adesso lo sono ancora di più. Tra le cause però di una mancata cura c'è la vergogna, il pudore, la difficoltà, quindi ad affidarsi ad un professionista della salute mentale. Tutto quello che può essere contraddistinto da un problema, una difficoltà, fino a un disturbo. Noi professionisti siamo formati apposta per aiutare le persone, quindi accedete assolutamente al servizio perché può cambiare la vita in certi casi.